Musica Covid in Italia cambiano i parametri per i colori delle regioni. Le Marche in zona arancione dal 24 dal 31 gennaio per Acquaroli ormai è inevitabile. Attività sportiva per gli over 12. L'assessore Latini chiede al sottosegretario Vezzali di rivedere le regole. Super Green Pass penalizza i giovani e ha dichiarato decidere usando il buon senso. Una comunità coesa e tutti i servizi in ogni quartiere con scuole, parcheggi, negozi di vicinato e spazi pubblici adeguati. Ecco la visione della Fano del Futuro del vice sindaco Cristian Fanesi. Oggi in riunione per discutere di PRG e legge urbanistica della regione. A Fossombrone 100 euro di multa per chi non raccoglie le deiezioni canine. Da domani scatta l'ordinanza del sindaco Berloni e vietato sporcare i portici, le colonne, le vetrine di Corso Garibaldi, sacchetti e acqua. Sempre a portata di mano. È dedicato a nove giovani servizio civile con l'Africa Chiama. Progetti in Italia, in Kenya, Tanzania e Zambia. Le domande entro il 26 gennaio per un'esperienza unica e retribuita. Buonasera e benvenuti sul canale 17 di Fano TV per questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale con le marche che sono sempre più vicine alla zona arancione. Lo ha confermato oggi il presidente Francesco Acquaroli in vista delle nuove percentuali previste dal decreto sulla saturazione delle terapie intensive e dell'area medica. Il governatore ha ribadito anche le sue critiche al Super Green Pass e ha chiesto un cambio di parametri per le zone di rischio attribuendo un maggior peso ai ricoveri. E' più difficile, ha dichiarato Acquaroli, che si verifichi un'inversione di tendenza netta. Se non avremo i numeri per la zona arancione questa settimana, quindi dal lunedì 24 gennaio, quasi sicuramente li avremo per la prossima dal lunedì 31. Ho sempre detto che Super Green Pass non avrebbe prodotto un effetto calmirante rispetto alla curva epidemiologica e che si sarebbe arrivati comunque a restrizioni di questo genere. Confidiamo, ha aggiunto, sul fatto che sia l'ultimo passaggio che ci apprestiamo a fare e che non ce ne siano altri. Tracciare i contatti di 7.000 persone significa per le marche ogni giorno tracciare città intere. Non abbiamo né le risorse umane né tecniche per affrontare un'azione di questo tipo. Stiamo alla responsabilità di tutti, ha concluso il presidente. Il governo ne prende atto. Intanto l'assessore regionale, Giorgia Latini, è intervenuta a sostegno delle associazioni marchigiane che chiedono di rimuovere il Super Green Pass per gli Over 12, richiesto per svolgere la pratica sportiva, allenamenti e partite. Ho già parlato con il sottosegretario allo sport, Valentina Bezzali, ha riferito a Latini che mi ha assicurato di essere a disposizione per trovare soluzioni a questa situazione che penalizza i ragazzi. I giovani, ha proseguito l'assessore, sono stati senza fare sport per oltre un anno e non possiamo più consentire che gli sia negata questa opportunità per la loro crescita e la loro salute. L'assessore muove queste considerazioni dall'osservazione dell'andamento della pandemia. Abbiamo capito, ha detto, che i più giovani non rappresentano un rischio per il sovraccarico delle terapie intensive degli ospedali e contraggono forme lievi del virus. Tutto ciò dovrebbe indurci a riflettere, ha concluso Latini, se non sia il caso di rivedere le regole per la pratica sportiva e permettere ai ragazzi di fare sport con il Green Pass base. Dobbiamo usare il buonsenso. È stato intitolato Abitare la città del futuro, il convegno che si è svolto oggi a Fano per ragionare sul piano regolatore, sulla legge urbanistica e sui servizi pubblici e privati che secondo il vice sindaco Cristian Fanesi dovrebbero esserci in ogni quartiere. Attuare una strategia per ripensare al nuovo volto della città fra dieci anni è stato questo l'obiettivo del convegno che si è tenuto oggi pomeriggio per ragionare sul futuro di Fano anche in vista della pianificazione del nuovo PRG. Affinché le nostre idee siano il più efficaci possibile, ha spiegato il vice sindaco e assessore all'urbanistica Cristian Fanesi, abbiamo organizzato insieme alla Regione Marche questo momento di riflessione così da coinvolgere tutti gli interlocutori e il mondo professionale attraverso un dialogo aperto e partecipativo. Il sindaco nella conferenza stampa di fine anno ha detto che questo sarà l'anno del piano regolatore. Effettivamente il lavoro fatto dal team che abbiamo incaricato, coordinato dal professor Stanghellini, ha prodotto già una prima bozza che ovviamente rappresenta uno step di partenza per il confronto con una serie di stakeholders, come si usa dire, ma comunque di portatori di interessi in generale che possono essere sia i cittadini che gli imprenditori più importanti, ma anche gli ordini professionali, gli architetti, gli ingegneri, i geologi, i periti, eccetera. Cioè tutti coloro i quali possono dare dal punto di vista tecnico una mano al comune, un contributo in maniera tale che vengono perseguiti gli obiettivi dell'amministrazione comunale, quindi quello di rendere più bella la città pubblica, ma nello stesso tempo si possono realizzare anche i sogni, gli investimenti di cittadini imprenditori che vogliono migliorare la loro situazione abitativa oppure agevolare un investimento lavorativo. Oggi all'incontro era presente anche l'assessore delle Marche all'Urbanistica, Stefano Guzzi. Che cosa vi attendete dalla legge regionale? Certamente oggi un confronto importante sulla legge urbanistica regionale che anche questa da tanto tempo, anzi da oltre 30 anni, è ferma, è uguale, è la stessa. Quindi da una parte probabilmente ha funzionato bene, dall'altra serve una rigenerazione anche della legge urbanistica in quanto deve, è questo che noi ci aspettiamo, inserire strumenti di flessibilità. Questo ha proseguito Fanisi, significa che una volta individuate le aree di trasformazione della città bisogna dare gli strumenti all'amministrazione comunale, alle imprese e ai cittadini con una certa flessibilità per andare incontro alle esigenze del mercato e finanziare così l'investimento. Una legge urbanistica che non si occupi più degli edifici, ma si occupi dei quartieri, anche quelli saturi, quelli già costruiti. Bisogna pensare, sì certo, all'edificio, sostituirlo dal punto di vista edilizio, ma bisogna pensare anche agli standard che intorno a questo edificio ruotano, come il verde pubblico, i parcheggi e la viabilità. Ma come vede lei la Fano del futuro? La Fano del futuro, io vedo Fano una comunità coesa, una comunità aperta, disponibile al confronto che abbatta tutti i muri, ma una comunità in cui le persone attraverso un patto, un patto sociale, possano costruire dal punto di vista urbanistico una città che migliori due o tre aspetti. Il primo è la qualità dell'abitare e in alcuni casi la qualità dell'abitare è fondamentale, soprattutto adesso in un periodo di Covid dove si usano anche di più le case. Ma dall'altra parte crei degli spazi pubblici adeguati. Io mi immagino una città, come è stata immaginata tantissimo tempo fa, policentrica, dove ogni piccolo quartiere possa avere la scuola, una community hub dove la gente si incontra, parcheggi sufficienti e verde pubblico soprattutto per poter stare insieme e possa tutto sommato anche avere un piccolo sistema di relazioni anche commerciali, quindi con piccoli negozi di vicinato, in maniera tale che la vivibilità di questi quartieri possa aumentare, possa essere piacevole, uscire, stare insieme e anche viverci e andare a lavorare. Sono stati celebrate al campo sportivo di Osteria Nuova a Pesore, il funerale di Cristian Fiocca, l'uomo morto nell'incidente avvenuto lo scorso fine settimana lungo la Monte Labattese. Decine le persone che oggi pomeriggio hanno dato l'ultimo saluto al giovane papà che di professione faceva il camionista, toccanti le foto con amici e parenti, proiettate su un maxischermo, sulle note di Una vita spericolata di Vasco Rossi. Al termine del rito funebre sono stati fatti volare in cero dei palloncini bianchi e azzurri, oltre a tre di colore rosso a forma di cuore lanciati dalle persone a lui più care. Cristian lascia la compagna e la figlia Melissa. Ancora cronaca, l'ispettorato del lavoro di Ancona ha sospeso l'attività di un autolavaggio situato in via Flaminia, infatti dopo l'arresto di un ladro pluri pregiudicato, gli agenti della questura hanno effettuato un controllo in quell'autolavaggio in cui l'uomo diceva di lavorare. Durante le verifiche sono stati trovati intenti a svolgere le mansioni di lavaggisti, due egiziani di 30 anni, ma che in realtà non erano stati assunti. Così l'ispettorato ha emanato il provvedimento di sospensione dell'attività intestata ad una cittadina rumena plurissegnalata per violazioni sul lavoro irregolare, falsità ideologica, violazioni ambientali e della normativa anti-Covid. L'esercizio rimarrà sospeso fino a quando la titolare non provvederà ad assumere i lavoratori e a pagare una sanzione amministrativa di 2.500 euro più quelle inerenti al lavoro in nero. Andiamo a Fossombrone dove entra in vigore l'ordinanza firmata da sindaco Massimo Berloni che introduce sanzioni per chi non raccoglie le deiezioni canine. Da domani infatti ci sarà il divieto di consentire ai cani di sporcare i portici e le colonne di corso Garibaldi, le vetrine, le bocche di lupo e i portoni di ingresso. Inoltre i proprietari e i conduttori degli amici a quattro zampe saranno obbligati a portare con sé idoni strumenti per la pulizia delle deiezioni. Dovranno rimuoverle immediatamente con la paletta, sacchetto e appositi contenitori pieni d'acqua, almeno mezzo litro, senza l'aggiunta di sostanze chimiche o detergenti. Per i trasgressori è prevista la sanzione amministrativa di 100 euro. Aset non sia merce di scambio per interessi politici. Così la Lega Fano, intervenuta sulle sorti dell'azienda partecipata, ribadendo l'importanza della sua indipendenza. La Lega prende le distanze dalla posizione di alcune liste civiche e formazioni politiche di maggioranza che continuano a chiedere di riaprire il dialogo con Marche Multiservizi. La Lega, come spiegato in una nota, osserva preoccupata la recente interrogazione di azioni più europee di noi città rivolta direttamente ai manager di Aset e al sindaco Seri con l'intento di forzare la mano sulla sostenibilità finanziaria e industriale della municipalizzata nei prossimi anni nel tentativo di guardare favorevolmente ad una fusione. Quello che contestiamo, ha dichiarato il commissario del partito, Luigi Scopelliti, è la possibile collaborazione con Marche Multiservizi sia per la costruzione di un biodigestore nella provincia pesarese sia per le prossime gare in programma per l'assegnazione dell'idrico e del gas. Questa richiesta di collaborazione non tiene conto del fatto che in Consiglio Comunale è stata approvata all'unanimità una mozione che prevede l'interesse ad alcune società di collaborare con Aset e Multiservizi per il digestore e quindi siamo arrivati a un punto cruciale. Un punto cruciale è che Marche Multiservizi non ha aderito a questo avviso quindi ha dimostrato chiaramente la mancanza di interesse per una collaborazione mentre ci sono delle società importanti che hanno aderito che riconoscono un vincolo fondamentale che è stato posto in questo avviso cioè che Aset debba mantenere la sua indipendenza e debba essere pubblica. Quindi questi sono due vincoli che la Lega e la minoranza con la partecipazione di alcune parti della maggioranza ha sempre ribadito. Come pensate di procedere? Tutti questi motivi in quanto Presidente della Commissione Garanze e Controllo ho convocato per il 24 gennaio la Commissione Garanze e Controllo invitando esplicitamente il Dottor Pietro Celani e l'assessore Samuile Mascherin per aggiornarci sulla valutazione di queste società che hanno partecipato all'avviso pubblico e anche darci delle lucidazioni sulla potenzialità di Aset a mantenere il futuro business in questo settore dei rifiuti, dell'acqua e del gas. Ed è intervenuto sull'argomento anche il Movimento 5 Stelle di Fano. In campagna elettorale, hanno scritto i consiglieri, la coalizione a sostegno del sindaco Seri giurava che non c'era alcuna intenzione di privatizzare Aset e che quanto raccontavamo sui flirt con marche multiservizi era solo un pettegolezzo fondato sul nulla. La narrazione che sta prendendo piede sulla necessità di Aset di fondersi con la municipalizzata per vincere le future gare su acqua e rifiuti sconta un vizio di partenza. Nessuna fusione, hanno proseguito i pentastellati, garantirà ad Aset una vittoria anche perché il contesto sarebbe quello europeo dove dominano diversi colossi. L'unico modo per garantire un futuro alla nostra azienda è di continuare ad affidarle direttamente i servizi mantenendo il capitale in mani totalmente pubbliche. Sarebbe auspicabile, hanno concluso i 5 Stelle, aprire un ragionamento con la regione su un eventuale superamento dei confini provinciali per il disegno degli ambiti coinvolgendo magari il territorio anconetano dove il gestore unico per il servizio idrico è una società al 100% pubblica. Rimaniamo a Fano dove sono iniziati diversi interventi in alcuni impianti sportivi della città. Dopo le nuove luci e le recinzioni nel campo da calcio di Gimarra l'assessore Brunori annuncia lavori sull'impianto di illuminazione al campo da calcio dei carissimi dove presto verranno sostituite anche le reti di velte. Siamo intervenuti, ha aggiunto Brunori, con la riqualificazione energetica delle luci del circolo tennis dove nei prossimi giorni verrà installato un faro rivolto al parcheggio adiacente per migliorarne la fruizione e la sicurezza. Dopodiché procederemo con la sistemazione di una parte del tetto della Dini Salvalai che ha problemi di infiltrazioni d'acqua per poi sostituire tutta la recinzione del campo da baseball all'interno del circuito Marconi. Verranno installati due nuove punti luce ed una fontanella allo skate park di Sant'Orso e concluderemo questo ciclo di lavori con la riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione del centro sportivo di Ponte Sasso e delle nuove recinzioni per il campo da basket di Givarra. Grazie all'Africa Chiama, nove giovani potranno partecipare ai progetti della Ollus Fanese tramite il Servizio Civile Universale. Le domande dovranno essere presentate entro mercoledì prossimo. Il Servizio Civile Universale rappresenta non solo un'esperienza concreta nel mondo della cooperazione e della solidarietà internazionale ma anche un percorso di 24 ore settimanali altamente formativo con cui sperimentarsi e rafforzare le proprie competenze. A dicembre era stato pubblicato il Bando 2021 per la selezione di oltre 56.000 giovani e l'Africa Chiama è presente con quattro progetti. Raffaella, chi è rivolta questa iniziativa? Allora, questa iniziativa è rivolta a tutti i giovani che hanno fra i 18 e i 29 anni non compiuti. Giovani che hanno voglia di intraprendere un anno e di dedicare questo anno appunto ad un servizio importante. Noi come Africa Chiama portiamo avanti questo progetto del Servizio Civile da ormai sei anni. In questo momento abbiamo volontari in Servizio Civile sia nella nostra sede di Fano, sono due ragazzi, e sia invece nelle sedi estere, quindi in Kenya, in Tanzania e in Zambia. Com'è possibile presentare domanda? Allora, è possibile presentare domanda attraverso l'apposita piattaforma a disposizione sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile. L'Africa Chiama nell'attuale bando ha a disposizione nove posti, di cui sei destinati ai nostri progetti all'estero e tre destinati al nostro progetto qui a Fano. La novità quest'anno è che abbiamo un posto riservato ai giovani con minore opportunità, in particolar modo ai giovani con difficoltà economica, che potranno presentare il loro ISEE in sede di presentazione della domanda. È un'opportunità unica per i giovani, perché è altamente formativa, sia a livello professionale che personale, il tutto appunto con un percorso di formazione e monitoraggio costante durante i 12 mesi, con un compenso mensile di 440,30 euro al mese. Quando scade il bando? Il bando scade il 26 gennaio alle ore 14, quindi è importante presentare la domanda entro i tempi, perché tutte le altre non verranno prese in considerazione. Soprattutto il consiglio è quello di informarsi relativamente all'ente e al progetto, quindi ci potete contattare in qualsiasi momento. È possibile scrivere a volontariato chiocciolalafricachiama.org o telefonarci allo 0721 865159 per qualsiasi informazione. A portare la sua testimonianza oggi è Marica Borgogeli, 25enne di Fossumbrone, che presta servizio nella sede della Ollus in via giustizia a Fano. Marica, che cosa ti ha spinto a partecipare a questo progetto? Allora, fare il servizio civile per me è stato come un trampolino di rilancio, sia a livello professionale che personale, perché è comunque un'esperienza che ti permette di crescere sotto diversi punti di vista, appunto, dandoti in campo lavorativo la possibilità di formarti a tutto tondo e in campo personale di vedere diverse realtà all'infuori di quella che si è sempre abituati comunque ad incontrare. Quali sono le tue mansioni? Aiuto nell'amministrazione a gestire, ad esempio, nel sostegno a distanza, nella progettazione. Siamo coinvolti anche nei laboratori, nelle scuole e nel servizio di doposcuola. Consiglieresti il servizio? Assolutamente sì, se rientrate nella fascia di età, fatelo, perché è un'opportunità, secondo me, irripetibile e irrinunciabile. Invece l'Unione Pian del Bruscolo ricerca 5 agenti di polizia locale da assumere a tempo indeterminato. Il bando, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, accessibile da sito dell'Unione Pian del Bruscolo, scadrà il 14 febbraio prossimo. La domanda dovrà essere presentata via PEC, ma tutti i dettagli li troverete anche sul nostro sito occhioalanotizia.it. A tre anni dalla scomparsa di Carla Fucci, Fano TV rende omaggio alla grande artista e amante del teatro. Dopo le previsioni del tempo trasmetteremo La cena dei cretini, una commedia in due atti di Francis Weber con la regia di Maria Flora Gianmarioli. I protagonisti, oltre a Carla Fucci, sono Claudio Pacifici, Paola Maggi, Simone Orciari, Elisa Pattis, Daniele Cecconi ed Enrico Maggini. Lo spettacolo andò in scena al Teatro della Fortuna di Fano il 25 marzo 2007. Buona serata a tutti voi, l'informazione torna domani mattina con Massimo Foghetti e la lettura dei quotidiani. Arrivederci.